Quanti anni fa? Un trent'anni? 10 euro fa due cerchi Quanto costa quello la cromare? 10 euro? Si, 5 anni fa quando ho fatto quelli del moto Adesso quanti costa? 15 Devo chiedergli Ma portagli tu e li fai fare tu? Ma pare che non l'ho contato da una vita che non l'ho contato I cerchi, i manubri e anche i raggi Le fai fare E si Lo accendo Così sto facendo il video Peccato per i cerchi Che cacchio C'è tutto conservato tranne i cerchi Gilea 124 Color da donna Però è troppo bello Peccato qua Qua da dentro e da fuori Anche con le Poi è bello perchè è il modello deluxe Con i parafanghinino Non c'è 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 No va bene Va bene Va bene Finché se va bene Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Ma la Ma è la candela è che scoppietta ogni tanto poi c'è subito subito va quello è bello c'è la soltà il gi si no che figata si ma questo è da girare è da girare mi sa è da girare quando fai il gas si però ah si ma è invertito dovrebbe essere questo giù è che figo contagi subito a sei ci arriva subito vado ok 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 freda di là freda l'altra parte Sì! Sì! Se l'è la tua madre non stai mai? Sì! 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 Ah, c'è qui?